Buonasera dal Tg6 in apertura alla cronaca colpi di arma da fuoco sono stati esplosi questa mattina a Pescara ad intervenire la squadra volante della questura di Pescara due gli arresti eseguiti la ricostruzione di Alfredo Primante. A Pescara si torna a sparare questa volta è stato preso di mira un portone di una palazzina di via Raiale a pochi passi dall'ex cementificio periferia ovest della città. A esplodere il colpo è stata una beretta 70 calibro 7,65 con matricola brasa recuperata dagli uomini della squadra volante della polizia di stato guidati da Dante Cosentino che stanno conducendo le indagini. Gli stessi uomini che hanno anche catturato i due accusati della sparatoria Davide Tiberi 27 anni e Daniele Bassano 56 anni entrambi pescaresi. I due sono accusati di porto in luogo pubblico di un'arma clandestina comune da sparo, ricettazione e danneggiamento aggravato. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i due avrebbero fatto fuoco contro il portone della palazzina e imbrattato con scritte offensive il cofano della macchina di uno dei condomini. All'arrivo della squadra volante della polizia attorno alle 6.45 di ieri mattina un giovane poi individuato come Davide Tiberi ha tentato di scappare e di disfarsi dell'arma prima di essere bloccato. Successivamente gli agenti hanno rinvenuto nei pressi del portone un proiettile inesploso calibro 7,65 e un bossolo dello stesso calibro e marca. Tra le persone fermate dai poliziotti all'ora arrivo c'erano anche i proprietari dell'auto, padre e figlio, e Daniele Bassano trovati in possesso di un coltello a serramanico. I quattro sono stati accompagnati in questura per chiarire i fatti e padre e figlio hanno solo detto di aver sentito un forte boato e di essere scesi in strada incontrando Tiberi e Bassano. Nel corso della perquisizione effettuata in casa di Daniele Bassano i poliziotti hanno rinvenuto sei cartucce calibro 7,65, munizioni identiche alle due trovate in via Raiale. Per Tiberi e Bassano è così scattato l'arresto in flagranza. I due, su disposizione del PM titolare delle indagini, Rosangela Di Stefano, sono stati trasferiti nella casa circondariale di San Donato. Le indagini proseguono per chiarire l'accaduto e i motivi dell'azione intimidatoria. Forse alla base del gesto un regolamento di conti. Restiamo a Pescara, ancora cronaca. L'ite tra extra comunità ristrada, due feriti a Pescara. Secondo la ricostruzione degli agenti della squadra mobile, la lite scoppiata tra quattro marocchini da una parte e un tunisino dall'altra riguardava il controllo della zona parcheggio che si trova alle spalle del mercato ittico. Dopo una prima discussione nel pomeriggio in cui i quattro marocchini avevano intimato al tunisino di lasciare la loro zona, quest'ultimo è tornato poche ore dopo. Poi così è scoppiata una nuova lite in cui, secondo la polizia, i quattro avrebbero iniziato ad aggredire il rivale, colpendolo con calci e pugni e anche un bastone. Per tutta risposta il tunisino, 27enne, avrebbe poi estratto un coltello colpendo di striscio uno dei quattro, un franco marocchino di 39 anni. A loro arrivo i poliziotti hanno trovato a terra il 39enne, conferito al braccio il tunisino con ecchimosi e ferite dovute ai colpi ricevuti. Due sono stati medicati in ospedale e giudicati guaribili, il primo in 12 giorni per ferite d'arma da taglio superficiali e il tunisino in 20 giorni. Due sono stati denunciati per lesioni e il tunisino anche per il porto abusivo del coltello. La mobile indaga per ricostruire bene l'accaduto e risalire agli altri partecipanti alla lite che si è svolta davanti ai testimoni che passavano nella zona. Ancora cronaca e ancora un incidente stradale. Un'altra tragedia si è consumata questa notte, poco prima delle due, nel centro cittadino di Sant'Egidio, in via Cesare Battisti. A perdere la vita è stato un 28enne di Civitella del Tronto, Samuele Di Pietropaolo, che guidava una Citroen C3 finita contro la recinzione di una casa. I soccorsi da parte del personale del 118 sono stati però inutili perché il giovane è deceduto sul colpo, incastrato nell'abitacolo dell'utilitaria finita contro il muro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sant'Egidio per i rilievi di rito. C'è da chiarire come l'autovettura di proprietà della ditta Sama di Nereto sia finita sulla sinistra della carreggiata rispetto al senso di marcia. Non è escluso che il conducente abbia accusato un malore o un colpo di sonno. Il magistrato ha disposto il sequestro dell'auto mentre la salma è stata composta all'obitorio dell'ospedale di Sant'Omero, dove nella mattinata è stata eseguita la ricognizione cadaverica. Cambiamo argomento, passiamo alla Regione Abruzzo. Un annuncio l'architetto abruzzese Gianluca Marcantonio è stato nominato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Soddisfatto il Presidente della Giunta Regionale, Luciano D'Alfonso, che ha parlato di nomina storica per la nostra Regione. Vediamo. E' una nomina storica per l'Abruzzo. Non usa mezzi termini il governatore D'Alfonso per presentare il risultato di quella che ha chiamato un'azione politica e che ha portato alla nomina da parte della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città dell'architetto Gianluca Marcantonio, quale componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L'organo di rango costituzionale si occupa di dare il placet finale ai progetti di opere pubbliche in Italia. Marcantonio, 45 anni, pescarese, è stato all'interno della Task Force creata da D'Alfonso per la mitigazione del rischio idrogeologico. Una nomina fortemente voluta proprio dal Presidente della Regione per avere un riferimento all'interno del Consiglio Superiore che conosca il territorio e sia in grado di snellire l'iter burocratico dei progetti infrastrutturali. D'Alfonso ha tenuto a precisare che Marcantonio dovrà fare gli interessi di tutti, e cioè dell'intera conferenza unificata, ma è chiaro che all'architetto pescarese si chiede di essere l'anello di congiunzione per portare a un complessivo snellimento delle istruttorie che possono durare anche degli anni. È molto importante avere questa disponibilità di competenza poiché il Consiglio Superiore è il massimo organo della consapevolezza tecnica riguardante le trasformazioni del territorio. Noi utilizzeremo questa competenza e questa familiarità dal punto di vista della coincidenza con l'Abruzzo per tentare velocemente di risolvere tutte le partite aperte. Riqualificazione dell'operatività dell'interporto di Manopello, completamento storico della diga di Chiauci e dragaggio dei porti di Ortone e Pescara. Questi gli obiettivi di D'Alfonso e per i quali Marcantonio potrà lavorare all'interno del Consiglio Superiore e dei lavori pubblici ed è proprio sull'abbattimento di parte della diga foranea di Pescara che il Presidente si è voluto soffermare. Siamo in attesa nei prossimi giorni di avere l'ultima validazione che riguarda la consistenza dell'aumento di carico idraulico fluviale una volta tagliata la diga foranea. Ci sono i soldi, c'è la procedura, c'è il contratto, c'è l'impresa, c'è l'urgenza. Abbiamo chiesto al Consiglio Superiore di stimarci qual è l'aumento del carico idraulico fluviale. Il 16 di settembre dovrebbe arrivarci l'ultimo foglio che ci dica di procedere. Ecco, in quell'organismo noi oggi abbiamo una persona che conosce le questioni abruzzesi. È stato il segretario di Stato Vaticano, il Cardinal Pietro Parolin, a chiudere oggi la 36esima tendopoli di San Gabriele della Dolorata. Vediamo. Per eminenza, nella tendopoli ci sono alcuni ragazzi anche dal Venezuela dove portano avanti lo spirito della manifestazione di San Gabriele. Lei è stato un nunzi apostolico in Venezuela e conosce da vicino quella realtà oggi in grave crisi economica e umanitaria. Qual è la situazione del dopo Chavez e qual è la situazione dei cattolici in Venezuela? È una situazione di grave preoccupazione, di grave preoccupazione per lo scontro politico che è in atto e per le sofferenze in cui si trova a vivere la popolazione. Ecco, quindi i cattolici sono lì, sono la maggioranza. Credo che continuano a fare tutto il possibile appunto perché questa situazione, soprattutto da parte dei Vescovi ma anche di altri membri della comunità cattolica possa trovare delle soluzioni pacifiche. Pregherò, chiederò di pregare anche durante la messa per il Venezuela visto che ci sono anche alcuni ragazzi. La tendopoli è dedicata alla misericordia che si è fatta tenda nell'anno del Giubileo straordinario. Che significato assume la tendopoli? C'è un pellegrinaggio materiale ma c'è anche un pellegrinaggio spirituale e questo pellegrinaggio spirituale evidentemente deve caratterizzare tutti i cristiani. I cristiani sono in cammino verso la patria definitiva che è la comunione con Dio. In questo cammino la misericordia ha un ruolo fondamentale perché, come ci ha detto il Papa, la misericordia è il nome di Dio. Qualche giorno fa il Papa ha celebrato la giornata mondiale della gioventù in Polonia. Qual è il messaggio che la Chiesa rivolge ai giovani e che emerge anche da questa 36esima tendopoli? Il messaggio che il Papa ha lasciato è stato molto chiaro. Dice non sedetevi, lo ricordano anche nell'Omelia, non sedetevi in un divano, non credete che la felicità sia un divano. Lo stare tranquilli nella vita, senza problemi, senza difficoltà. Mettetevi in cammino, ecco, alla voce del Maestro e cercate di lasciare un'impronta di bene, ecco, in questo nostro mondo. Bilancio di previsione 2016 approvato da parte della provincia di L'Aquila, il tutto nonostante i tagli dei trasferimenti. Daniela Rosone. Sì, al bilancio di previsione 2016. L'ho approvato il Consiglio provinciale, all'unanimità, con l'astenzione dei consiglieri Alfonsi e Mazocchi. Lo strumento finanziario della provincia dell'Aquila risente del taglio dei trasferimenti statali, pari quest'anno a 21 migliori di euro. Il Presidente ha spiegato che attraversiamo un momento particolarmente difficile per la forte diminuzione delle risorse a nostra disposizione, che sta mettendo, ha detto, ancora dura prova l'espetamento delle funzioni prevalenti in capo all'ente, ma siamo comunque impegnati, assicurato, a garantire la sicurezza delle strade e delle scuole attraverso interventi di manutenzione. L'approvazione del documento contabile è stata preceduta dalla votazione sull'emendamento al piano annuale delle opere pubbliche presentato dal Presidente dei Crescenti, si è approvato all'unanimità. Alla luce delle difficoltà economiche, abbiamo dovuto rivedere gli interventi di possibile realizzazione, favorendolo quelle opere pubbliche che rientrano nella nostra capacità finanziaria. Il Consiglio provinciale ha anche approvato a maggioranza un piano quinquennale per la riduzione della presenza dei cinghiali nel territorio provinciale. Nel documento è prevista la riduzione di circa il 6% all'anno della presenza degli ungulati, per giungere nei 5 anni ad una riduzione di circa il 35%. Il piano avrà valenza su tutte le aree non vincolate dal punto di vista paesaggistico, al di fuori dei parchi della provincia. Per le altre aree sarà operativo solo quando la Regione Abruzzo darà il parere favorevole alla valutazione di incidenza ambientale, approvata dal Consiglio provinciale contestualmente al piano. L'altra novità, introdotta con l'approvazione del piano quinquennale, finalizzata alla riduzione della presenza dei cinghiali nel territorio, è data dall'introduzione della cosiddetta caccia di selezione, che permetterà ai cacciatori abilitati delle singole squadre, di intesa con i proprietari dei terreni, di andare a caccia tutto l'anno e non più soltanto nel periodo compreso tra ottobre e dicembre. E allora è arrivato il weekend di Ferragosto con l'esperto meteo Giovanni De Palma. Vediamo cosa ci attende nei prossimi giorni. La situazione meteorologica attuale è caratterizzata dalla presenza di un promontorio di alta pressione in ulteriore espansione sulla nostra penisola, un promontorio di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile non solo nelle prossime ore, ma soprattutto nella giornata di domenica e nella giornata di Ferragosto. Dopo gli ultimi anni è l'insegna dell'instabilità, quindi Ferragosto sarà una giornata caratterizzata dal tempo stabile, prevalentemente soleggiato, con qualche annumolamento pomeridiano lungo la dorsale appenninica, ma comunque con temperature massime in progressivo aumento perché l'alta pressione ci proteggerà dall'arrivo di perturbazioni e quindi favorirà anche un progressivo aumento delle temperature. Nelle prossime ore invece continueremo a avere venti dai quadranti settentrionali, un clima piuttosto gradevole e sarà ancora così anche nei prossimi giorni, anche nella giornata di Ferragosto, caldo di giorno, ma temperature gradevole, addirittura in alcuni casi anche piuttosto fresche, complici tassi di umidità piuttosto bassi. Anche la tendenza successiva mostra ancora una situazione di bel tempo nella giornata di martedì, ma successivamente sembra possibile il ritorno dell'instabilità a causa del cedimento di questa struttura di alta pressione che, comunque lo ribadisco, proseguirà almeno fino alla giornata di Ferragosto, favorendo appunto bel tempo e quindi condizioni ideali per intraprendere sia escursioni sui nostri lievi sia per chi volesse andare al mare. Nel Borgo Famoso per le ceramiche un'intera settimana dedicata alle arti figurative, cinematografiche, letterarie, musicali e gastronomiche e ospite del Festival di Castelli sarà Vittorio Sgarbi. Con il Sindaco di Castelli parliamo di questa settimana dedicata alla storia dell'arte con la partecipazione davvero gradita e importante dello storico dell'arte Vittorio Sgarbi. Assolutamente, noi quest'anno orgogliosamente riproponiamo il Festival della Storia dell'Arte che era stato fatto diversi anni fa e oggi lo riproponiamo per la quarta edizione. Quindi per una settimana dal 19 agosto al 26 praticamente ogni sera ci sarà un tema riconducibile al mondo dell'arte. L'evento centrale quindi ci terrà a battesimo appunto il celebre critico d'arte Vittorio Sgarbi che sarà proprio il 19 di agosto. Questa nuova amministrazione con Rinaldo Seca ha voluto riprendere questa grande iniziativa che è unica in Italia e per fortuna abbiamo mantenuto la promogenitura che ci avvicina a grandi festival della filosofia a Modena della letteratura a Ferrara e così anche Castelli ha un posto d'onore nelle manifestazioni nazionali. Una settimana di grandi eventi a Castelli in particolare che cosa vedranno i tanti visitatori? Si tratta di una scoperta dell'arte in tutte le sue forme principalmente ovviamente l'arte figurativa ma non soltanto una storia dell'arte che tocca la musica che tocca la gastronomia perché no e poi degli spazi dedicati a tutti anche più piccoli con delle giornate specifiche per loro con dei laboratori e ai disabili una giornata che va a scoprire l'arte come forma di integrazione sociale con disabili e ragazzi immigrati quindi un cartellone veramente ricco di eventi che accontenderanno tutti i gusti. Noi organizziamo questo festival perché Castelli è la patria dell'arte quindi diciamo vogliamo che questo evento possa appunto sublimare questa sua profonda caratteristica. Si chiama Villa Dulcis e la storia continua la seconda opera di un medico nato a Padova e che ha trascorso insieme alla sua famiglia i momenti più belli della sua infanzia proprio a Giulianova. Vediamo. Ha diretto la scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia dell'Università di Bologna quella di reumatologia e endocrinologia e malattie metaboliche dell'Università Cattolica di Roma e poi la scuola di specializzazione di medicina interna di reumatologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma è stato vicepresidente della società italiana medico-chirurgica di malattie dell'apparato digerente e vicepresidente del gruppo italiano di studio di medicina d'urgenza. Nato a Padova classe 1936 Giovanni Gasbarrini gastroenterologo di successo al compimento dei suoi 80 anni decide di raccontare una vita ricca di esperienze momenti significativi famiglia e infanzia tutto riconduce a Villa Dulcis a Giulianova Paese in cui io sono venuto per la prima volta a due mesi mio padre mi ha portato e questo libro vuole avere un significato siccome siamo in un momento molto particolare di dimenticanza della famiglia non solo il significato della famiglia ma anche quello di vivere insieme allora la fortuna di avere una villa in un paese come Giulianova circondato da amici è molto importante trasmetterlo ai figli e farlo capire noi siamo stati felici allora vorremmo che anche loro lo fossero e gli indichiamo una strada e la nostra storia la prima era la storia soprattutto dei miei genitori e dei loro amici e dei loro parenti questa è la nostra mia di mia moglie dei tre figli delle moglie e i mariti e dei dieci nipoti ora questo secondo volume ha una continuazione col primo tant'è vero che nello scriverlo mi sono trovato davanti a dei ricordi questo arriva fino al 1960 al giorno del mio matrimonio e queste cose passate me le ricordo bene dopo le cose si fanno un po' più confuse ricordo il periodo della guerra dei bombardamenti le uccisioni da una parte e dall'altra che ho vissuto direttamente li ho visti fucilare le persone e questo i miei figli e i miei nipoti non lo sapranno mai la vita passata nei rifugi adesso per fortuna la vita di questo tipo non si fa più però certo ci sono molte cose da raccontare soprattutto quando si racconta le esperienze con i malati che sicuramente possono essere anche più difficoltose e difficili da digerire come quelle di una volta e ora passiamo agli appuntamenti per il cartellone estivo Scerne di Pineto dal 15 al 17 agosto offrirà il festival degli artisti di strada torna anche quest'anno il festival internazionale dei buskers di Scerne di Pineto la manifestazione è stata la prima rassegna abruzzese delle arti di strada creata sul modello del festival dei buskers di Ferrara tre giornate dal 15 al 17 di agosto che saranno un tributo all'arte di strada all'arte circense alla musica folclorica internazionale tre giorni di qualità e bellezza proposti con ironia virtuosismi e atmosfere immaginifiche non abbiamo mai visto fino ad ora in Abruzzo il lavoro che intreccia la musica l'arte dell'attore l'arte circense e l'arte nuova dell'acrobazia aerea ci sarà anche il gruppo di Uccio Aloisi uno dei più grandi ricercatori della musica dei cantori del Salento ci sarà il Passagallo che è una grande realtà abruzzese proiettata su tutta la ricerca della memoria delle genti del Mediterraneo che hanno attraversato questo pezzo di terra ma che è chiaramente in apertura con tutta l'internazionalità direi sono tre giornate intense sette postazioni spettacoli spesso in contemporanea artisti che però restano due giorni o tre giorni in modo tale che gli spettatori possano in orari diversi godere tutto quello che c'è con questo evento si riesce a portare gli artisti di strada e anzi a far conoscere quanti artisti e di che qualità vi è anche se diciamo lo si fa per strada e appuntamento per il cartellone estivo anche a Canzano dove dal 25 al 28 agosto ci sarà un percorso studiato per scoprire le antiche cantine del paese tra musica e divertimento Paolo Renzetti Sindaco terza edizione dell'Uvino Facantà quattro giorni di grandi eventi all'insegna del Nettare di Bacco nel vostro centro il vino è al centro dell'evento l'Uvino Facantà un'espressione gergale ma sempre attuale perché l'Uvino Facantà è proprio quello che rappresenta cioè l'allegria e la felicità un ringraziamento all'associazione Ad Maiora che per il terzo anno propone questa bellissima manifestazione che unisce il vino ai prodotti tipici all'enogastronomia e alla storia del comune perché nella stessa manifestazione c'è la possibilità di fare un percorso in cui si visitano sia cantine pubbliche che cantine private questo permette di fare un salto nella storia quindi capire anche come i nostri avi vivevano dopo il successo delle passate edizioni puntate ad avere tanti visitatori anche quest'anno sicuramente sì in quanto Canzano vuole essere sempre il centro nevralgico comunque delle attività della zona della provincia di Teramo perché grazie alle associazioni che con il loro impegno la loro forza e la loro volontà portano avanti questi eventi che danno lustro e sicuramente importanza a Canzano a tutta la cittadinanza ma perché hanno anche al territorio e ora andiamo a vedere l'inaugurazione di una delle più storiche sagre quella di Torano Nuovo che è arrivata alla sua 47esima edizione 47 anni e non dimostrarli la sagra di Torano raggiunge un record annoverandosi tra le più antiche d'Abruzzo per il sindaco Alessandro Rigiacinto da sindaco da primo cittadino è la terza edizione da amministratore comunale sono ben 13 anni che segue l'evoluzione sempre in mellius di questa carmes gastronomica dunque 47 anni taglio del nastro tra qualche istante cosa ci prospetterà questa stagione 2016 per l'evento di punta di Torano si è sempre un'emozione tagliare il nastro per l'apertura di un'edizione della sagra la mia come dicevi è la terza da sindaco e la tredicesima da amministratore comunale ogni anno la sagra presenta delle novità ogni anno tutti i toranesi aspettano l'evento e Torano si trasforma in un ristorante all'aperto ogni toranese è ben orgoglioso di accogliere e far degustare i propri prodotti a tutti i visitatori c'è un'immagine davvero suggestiva per chi guarda Torano dal basso e cioè questo paese illuminato e soprattutto questi fumi che in qualche maniera sono un po' l'effetto speciale che annunciano che c'è la sagra oggi e quest'anno soprattutto con una grande novità una partnership tra Proloco e la neocostituita associazione commerciante sì questa è come dicevi tu è una novità nel senso che gli operatori commerciali per la prima volta danno una collaborazione e un aiuto alla Proloco nell'organizzazione della manifestazione questo è stato chiesto dalla Proloco nei mesi precedenti e devo dire che immediatamente dopo delle riunioni convocate anche in comune da me subito gli operatori si sono dimostrati ben favorevoli a questa nuova partnership ora apriamo la pagina dello sport tra poco più di un'ora lo stadio adriatico il Pescara scenderà in campo per l'incontro di Team Cup contro il Frosinone nella conferenza pre-gara il tecnico Massimo Oddo ha parlato anche della prima giornata di campionato di Serie A in programma domenica 21 agosto contro il Napoli ascoltiamo ma io do un grande valore a tutte le partite anche le amichevoli è ovvio che questa è una partita ufficiale vai a fare la prima partita dell'anno e quindi è importante farla bene è importante trarre indicazioni da questa gara e poi è comunque una competizione competizione che alla fine ti dà anche una qualificazione in Europa quindi perché non dovremmo snobbarla insomma noi tiriamo dritti per la nostra strada cercando di andare in campo e come al solito con la mentalità di cercare di fare il meglio possibile di possibilmente vincere sono contento perché i nuovi provano a fare tutto quello che gli si chiede e quindi già quello è un passo importante poi insomma abbiamo messo dentro giocatori sicuramente di qualità di prospettiva di talento quindi starà anche a loro arrivare a pareggiarsi con i tra virgolette vecchi prima possibile ma sicuramente lo faranno in breve tempo dell'ambiente ci interessa relativamente nel senso che l'ambiente risponde come vuole come crede e come pensa siamo noi gli attori quelli che devono far cambiare le sensazioni quindi noi siamo sicuri di quello che possiamo dare io sono sicuro certo straconvinto che questo gruppo possa fare bene e l'importante è quello l'importante è che noi crediamo in quello che facciamo e il nostro compito è anche quello di trascinare l'ambiente verso la positività io sono abbastanza sereno non è vero assolutamente che il nostro campionato inizia dopo la sosta il nostro campionato inizia domenica prossima è normale che siamo in Serie A e ci sono squadre sulla carta più forti di noi noi dobbiamo smentire la carta ora invece passiamo al basket Mattia Venucci e Domenico Antonicelli sono due delle novità più importanti nel roster della Progerchieti che dopo Ferragosto tornerà a sudare in vista del prossimo campionato a due la Progerchieti ha presentato due dei sei nuovi acquisti per la prossima stagione cestistica di A2 il play Mattia Venucci classe 1990 nella passata stagione in forza al basket golfo piombino arrivato ai playoff il playmaker è stato eletto miglior giocatore del campionato di Serie B ed ha dalla sua numeri di tutto rispetto 19,7 punti 4,9 rimbalzi e 4,4 assist di media c'è tanta voglia di crescere e di alzare questa sticella che ti permette di migliorare sempre di più spero sia un anno positivo non tanto per me ma spero sia positivo veramente per la squadra e per il gruppo non sarà facile però ci proveremo faremo di tutto per far sì che questi numeri tornino e poi c'è Domenico Antonicelli guardia classe 1997 che ha militato in Serie B nel basket Francavilla un giovane di belle speranze che vuole ben figurare con i colori bianco-rossi saranno molto molto lungo avrò tanto da imparare da tutti i compagni dal coach dal preparatore Dante che ho avuto modo di conoscere qualche giorno fa saranno molto bello la Proger subito dopo Ferragosto si metterà al lavoro per preparare la nuova stagione ritrovo con coach Massimo Galli il 17 poi il giorno successivo primo allenamento al Palatricalle agli ordini del preparatore atletico Dante Falasca ancora basket il Campli basket dopo i play-off perso lo scorso anno contro l'amatori Pescara pronto per una nuova stagione anche se mancherà il derby contro il Teramo basket vediamo l'anno scorso il percorso si è fermato un po' maramente ai play-off in un derby quest'anno dove conta di poter arrivare questa squadra dunque l'anno scorso intanto cominciamo a dire che l'anno scorso noi eravamo le matricole della serie B nazionale e quindi da questa premessa e avendo perso a gennaio due dei giocatori più forti del quintetto nonostante questo siamo riusciti ad entrare in play-off e abbiamo fatto anche le semifinale è stato un risultato straordinario impensabile in partenza che però ha premiato un po' il lavoro dell'allenatore e di tutta la squadra quest'anno noi non ci poniamo degli obiettivi specifici vogliamo far divertire le persone vogliamo attirare intorno al nostro mondo più gente possibile creare un clima la partita non deve essere l'assistenza a uno spettacolo di 10 persone che corrono in mezzo al campo appresso a un pallone ma deve essere un modo di vivere insieme una realtà di condividere delle esperienze infatti prepareremo dei punti di storo stiamo studiando perché vorremmo che il palazzetto diventasse un punto di riferimento per le famiglie dove andare a trascorrere due ore la domenica pomeriggio insieme ai bambini e passare ore di divertimento in un contesto di amici e di persone cari più contento più amareggiato che Campi non farà il derby con Teramo sotto un certo profilo ci dispiace perché rimettere in moto un derby come ai vecchi tempi sarebbe stata una cosa veramente straordinaria perché i derby riaccendono sempre gli entusiasmi soprattutto là in quei posti dove sono molto sopiti però ce ne abbiamo tanti altri di derby abbiamo il Giuliano abbiamo l'Ortona abbiamo il Pescara perché gli scontri col Pescara furono poi mitici delle belle cose perché quella gente che abbiamo visto al palazzetto di Campri al pala Elettra in quelle occasioni delle finale dei playoff sono stato veramente uno spettacolo straordinario quest'anno questo spettacolo straordinario vogliamo si ripeta tutte le domeniche del nostro palazzetto ed ora parliamo di una storica corsa podistica si tratta della Miglianico Tour che per il suo 46esimo anno si correrà in notturna vediamo 46esima edizione della Miglianico Tour ormai una tradizione per la nostra regione quest'anno con una novità quale? per la prima volta abbiamo cambiato l'orario di partenza è sempre stata una gara pomeridiana col caldo di agosto abbiamo voluto provare a far in notturna che hanno un certo fascino e per noi è una novità speriamo che venga recepito questo cambiamento e che ci sia una buona partecipazione come sempre si partirà invece con la gara dei più piccoli sì quella è un po' la storia è la parte gioiosa della gara dove ragazzini dai 0 ai 9 anni si cimenteranno sui 300 metri o i 900 metri ma più che altro sono i genitori con i nonni di zii che spingono a volte le carrozzine trascinano il ragazzino per le mani per farlo arrivare al traguardo ma non c'è competizione per i ragazzi solo un premio di partecipazione è un buon gelato che li ristora e li affascina un po' e la competizione invece ci sarà e come nella gara degli adulti la gara degli adulti da un po' di anni per esigenze economiche non abbiamo nomi illustri però ci sono gli amatori ecco gli amatori hanno fatto la storia della Milianico Tour e quindi credo che ci sarà una buona partecipazione aspettiamo come negli anni passati un migliaio di concorrenti io voglio così precisare che questo circuito la Milianico Tour è iniziato nel 1971 dopo 46 anni ha lo stesso numero di curve lo stesso percorso non è cambiato di nulla quindi chi partecipa ha sempre la possibilità di verificare se è migliorato come tempo quindi un circuito che non è stato mai cambiato è tutto per questa edizione il prossimo appuntamento con l'informazione del TG6 torna nell'edizione delle 23 grazie per essere stati con noi grazie per aver guardato il nostro canale